Che vuoi? L'Isola dei Famosi, Daniele Bossari lascia il programma? Ecco cosè successo Gossip Isola dei Famosi, Daniele Bossari vuole lasciare il programma? Colpo di scena o il cancelletto Isola dei Famosi 2018, Daniele Bossari potrebbe lasciare il cast del reality show in onda su Canale 5? E questa l'indiscrezione delle ultime ore che sta facendo il giro del web e dei social, alimentando un bel po' di polemiche e indiscrezioni sul futuro del reality show Mediaset che in queste settimane sta ottenendo ottimi risultati d'ascolto con una media di ben 4. 5 milioni di spettatori a puntata e uno share superiore al 24 con picchi di oltre 5 milioni. L'addio di Daniele Bossari all'Isola dei Famosi 2018. Stando alle ultimissime news di queste ore sembrerebbe che Daniele Bossari nel corso delle ultime puntate del reality show abbia manifestato un po' di malcontento dovuto al fatto che lì verrebbe data poche volte la parola nel corso della trasmissione e questa situazione comincerebbe a stargli un po' stretta. La scorsa settimana c'è stato un vero e proprio fuorionda in cui Daniele Bossari rivelava il suo malcontento per questa situazione ed ecco che subito si è parlato di un suo possibile addio al cast del cancelletto Isola dei Famosi. Ma come stanno realmente le cose? Il vincitore della seconda edizione del Grande Fratello vi plascerà per davvero il cast del reality show Mediaset oppure si tratta di un rumor sinfondato? E questa la domanda che si stanno ponendo nelle ultime ore i tantissimi fan della trasmissione, curiosi di sapere se Bossari ci sarà oppure no nel corso delle prossime settimane. . Daniele Bossari vuole lasciare il cast dell'Isola? . Ebbene questa sera nel corso della diretta dell'ottava puntata dell'Isola dei Famosi 2018 abbiamo visto che a fare un po' di chiarezza sull'accaduto è stato proprio Daniele Bossari, che a inizio trasmissione ha fatto chiarezza su questa notizia precisando subito che si trattava di una fake news. . L'opinionista dell'Isola, infatti, ha svelato che non c'è assolutamente maretta con il resto del cast di questa edizione e che non ha alcuna intenzione di lasciare la trasmissione nel corso delle prossime settimane. . Insomma Daniele Bossari ha smentito categoricamente la notizia, anche se in molti hanno notato che nel corso dell'ottava puntata dell'Isola dei Famosi l'opinionista continuava ad essere un po' sottotono e i suoi interventi non sono stati piccati come quelli fatti nel corso delle primissime puntate di questa edizione. . . Cosa sarà successo? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane. Cancelletto Isola dei Famosi. . 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 Grazie a tutti.